Ciao, io sono Alessandro, nello specifico sono un network professionista. Collaboro con un'azienda americana nel settore del benessere. Insieme al mio socio, circa un anno fa, ci siamo resi conto che non avevamo una presenza online. La vera svolta, quindi la nostra fortuna, è stata quando abbiamo incontrato online il corso autoridi di Fabio Gallerani. Questo corso ci ha letteralmente stravolto perché ci ha insegnato tutto quello che a noi ci serviva per fare questo salto di qualità. Grazie al corso autoridi siamo riusciti ad apprendere tutte quelle nozioni step by step ed in maniera veramente molto semplice. Fabio Gallerani in questo è un vero professionista del settore e noi ne eravamo molto entusiasti di averlo trovato. perché non pensavamo ci fosse né una persona del suo livello né un corso di questo livello. Grazie al corso autoridi siamo riusciti a posizionarci online in maniera efficace. Siamo riusciti sostanzialmente ad aumentare la nostra credibilità online e la cosa fondamentale è che siamo riusciti ad avere una gestione dei contatti molto molto professionale, cosa che prima non avveniva spesso. Quindi da questo punto di vista per noi è stato veramente un grandissimo salto in avanti. Ad oggi, circa dopo un anno di distanza da quando abbiamo iniziato ad apprendere queste nozioni tramite il corso autoridi, abbiamo aumentato di circa il 30% il nostro team, ma la cosa fondamentale è stato che questo 30% sono stati tutti i contatti di qualità. Quindi il contatto è stato per noi quello di qualità fondamentale per avere il salto di qualità che proprio cercavamo. E la cosa fantastica è stato che grazie a questo corso siamo riusciti a creare un nostro brand e ci stiamo accorgendo sempre di più insieme al mio socio che stiamo diventando un punto di riferimento all'interno della nostra azienda. Quindi grazie Fabio, grazie Corso Autoridi e lo consiglio vivamente a tutti. Ciao! Autoridi e lo consiglio vivamente a tutti.